Ciao a tutti, io sono Martina, Alice22L e oggi siamo tornati con Eleonora Costa per la Not So Berry Challenge Eleonora è già al lavoro, sta sperimentando, anzi si sta esercitando all'analisi in quanto non abbiamo ancora fatto le due scoperte su quattro che ci mancano quindi anziché prima sperimentare nel laboratorio, voglio prima fare le altre due scoperte Oggi il tempo è soleggiato, è soleggiato mentre domani è previsto nuvoloso, così come anche mercoledì Le temperature sono roventi, infatti se vi ricordate la scorsa volta si è messa a piovere e addirittura a nevicare quindi nel deserto, quindi parliamone quindi aspettiamo queste due scoperte e poi andiamo avanti con il nostro lavoro e la malizia perché vi ricordo che lei è una scienziata ma maliziosa allora non mi ha fatto nessuna scoperta quindi direi di fare gli incarichi del giorno quindi presentiamoci anche in modo scortese perché tanto qua noi colleghi ce li facciamo tutti i nemici dai ci siamo ok e dobbiamo imparare a conoscere quindi impariamo a conoscere ma il conservatore di slancio ce l'ho già creato, perché me lo fare fare? cioè non ho capito, vabbè chiacchiera con Ugo Villareal che non so dov'è questo? no non c'è questo qua no e non c'è se non è qua sotto o se non è sopra non c'è, io come faccio a chiacchierare? vabbè facciamo perdere e allora inventiamo questo ah eccolo sì, fatti dobbiamo chiacchierare la mettete nel caldo ehi, ti sto salutando Ugo ok ok, poi allora sperimentiamo nel laboratorio ah, me lo do anche qua la lampadina ok quindi sperimentiamo infatti la lampadina e aspettiamo che Leonora faccia queste queste due scoperte eccola ha fatto la scoperta quindi vediamo nel suo taccuino cosa ha scoperto raggio sim qualsiasi metallo comune e qualsiasi cristallo comune ok poi dobbiamo spettegolare sui colleghi analizzare un frutto o un fiore io ce l'ho qua? sì allora questo è impegnato io questo direi di non farlo ce ne sono già due cavolo allora veniamo qua e analizziamo la flora non basta sperimentare oh allora vai qua ha anche fame è che non ho niente infatti questo lo mettiamo giù ok vediamo cosa ci dice la margherita la flora è migliorata va bene allora direi però di fare un salto in bagno poi torniamo qui e ci esercitiamo oggi non siamo stati molto bravi al lavoro infatti abbiamo trovato un nuovo metallo oggi un anno e volentonio ottimo bravissima ma il tempo ormai è finito quindi mi sa che che dobbiamo andare a casa oggi non è stato molto produttivo quindi è niente andiamo a casa ok allora visto che ha fame visto che ha fame prepariamo qualcosa se non c'è già pronto vediamo no mangiamo un buon hamburger prendiamo una porzione ok poi direi di fare vediamo con il nostro collega no non posso quindi devo prima sviluppare la malizia quindi socializziamo fa il troll i panni sono ancora fradici perché ah ok ah si sta già nuvolando parzialmente nuvoloso eh sì infatti uh qua c'è un alberello è un ciliegio sì e cresce questo invece sempre ciliegio ok ok quindi stiamo portando sul divertimento e socialità e poi direi di fare l'ultima scoperta per domani quindi se io sì giochiamo a scacchi così mi va su sia la logica che la scoperta e leggiamo qualcosa leggi cattura la preda e ha fatto l'ultima scoperta la quarta ovvero andiamo a vedere rovente basilico ok quindi direi che allora domani inizia alle 10 quindi ehm direi di andare a dormire e noi ci vediamo domani mattina direttamente al lavoro e ho notato che è cambiato il tempo cioè c'è vento freddo ah tempo misterioso e oggi? ah infatti c'era un punto interrogativo speriamo non abbia troppo freddo in effetti c'è vento cavolo è vero? guardate come si si muovono gli alberi eh sì ok perfetto noi andiamo a mangiare poi c'è anche da raccogliere ah questo lo mettiamo oddio cos'è successo? oddio 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 spegni 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 come mai? madonna eh per forza ma come mai? eh per forza scottatura e usiamo parole proibite in quanto è arrabbiata niente allora fai una doccia e facciamo qualcosa di veloce fai un posto veloce facciamo latte e fai un posto veloce i cereali può mangiare i cereali fai un posto veloce ah ma il latte ma il latte no però se è vegetariana e no qua eh infatti e allora il succo di frutta succo salsa no succo d'arancia d'arancia c'è penso vada bene e poi ci prendiamo la porzione prepara un pranzo al sacco oh è un po' arrabbiata e no facciamo apri e ci prendiamo la porzione raccogli la porzione nell'inventario ok perfetto dai prima che no non riesco a prendermi la porzione vabbè speriamo sia a posto vabbè ci vediamo al lavoro allora oggi vediamo di essere più produttive e dobbiamo mescolare il siero cibo sintetico esercitiamo allora prima ci esercitiamo nell'analisi e poi chiedi un cristallo a un collega allora lei mi sembra simpatica quindi presentazione amichevole poverina via cosa fu e quindi mescolare il siero cibo sintetico il cibo sintetico qualsiasi pianta eh il problema è che qua non cresce niente io ho solo una margherita esercitiamoci nell'analisi fatto dobbiamo chiedere un cristallo poi chiediamo il cristallo chiedi un cristallo analizza un campione di pianta con il microscopio Uda è d'accordo bene grazie quindi analizziamo la fragola poi bisogna osservare osserviamo e poi analizziamo il campione analizza un campione di pianta ah no ok l'ha fatto perfetto poi dobbiamo analizzare ok spettacola sui colleghi con Uda e spettacoliamo dove è? non c'è? spettacola sui colleghi cioè spettacola spettacola sui colleghi ah però qua le temperature sono roventi ok nel suo minuto è stata inserita una stampa della sua scoperta ok e le possiamo appendere qua tipo io direi di appenderle visto che ci siamo mamma mia quanto è grande e non c'è uno spazio un po' più grande dove lo possiamo appendere? qua? qua in alto? sì dai poi dobbiamo sperimentare nel laboratorio quindi sperimentiamo e poi chiacchierare basta chiacchierare con Uda e chiacchierare con il costruttore di invenzioni ok? e poi andiamo a chiacchierare con il robot e poi analizziamo un cristallo il citrino fatto basta e impariamo a conoscere un collega facciamo sempre con Uda così la conosciamo meglio no veda impara a conoscere ok cosa ci ha detto? ha rivelato informazioni utili sull'elemento analizzato ok poi facciamo brainstorming con robot chiacchierà con e questo qua no come si chiama questo? Uma Ima Alfassi sarà di qua sì dobbiamo chiacchierare glorifica i vantaggi del vegetarianismo parti create mentre sperimentavo l'onora costa ho ottenuto dei pezzi di scorta buono ok voglio completare tutti gli incarichi basta perfetto andiamo a chiacchierare con Uma Ima dov'è? mi chiacchierai dai ok e abbiamo fatto tutto perfetto compriamo uno spuntino al volo tramezzino vegetariano basta basta questo non so cosa sia ok ok allora c'è così visto che non mi da niente e no piantiamo un'altra margherita a sto punto pianta poi deve anche andare in bagno visto che ce l'ha qua andiamo no ripara è rotto lo sostituisce e andiamo in bagno e poi innaffia perfetto finito non abbiamo innaffiato ma va bene così andiamo a casa uh diluvia temporale ah si diluvia proprio allora andiamo vai dritta dentro che ci faccio qui fuori per essere all'istare durante un temporale infatti e allora facciamo il tro allora ci andiamo a cambiare mettiamo ma fa molto freddo fa freddo quindi un attimo fai una doccia gioca sotto la pioggia no ci cambiamo di abito ci mettiamo abiti questi qua no Beatrice non posso grazie noi domani lavoriamo sì e allora facciamo il troll in internet nel forum ombrello rotto ma dai davvero ah è vero che non me lo fa vedere allora facciamo un po' il troll e ma cerchiamo di mandare i panni si bagnano infatti sono fradici ma infatti erano puliti cavolo vabbè allora dobbiamo risultare sgredita due sim allora direi di fare così invitiamo il nostro collega e e cerchiamo mamma mia arriverà perfetto così eccolo qui così ok invita aiuto che lampo domani che mamma mia che tempo sì mandate dentro cos'è sfogati con qualcuno sì sì ci sfoghiamo con lui sfogati sì 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 adesso ci sfoghiamo per bene con questo qua e poi ci sediamo con lì ok e la prende larga non ho capito per quale motivo ah mamma mia devo stare in casa e non uscire evitiamo di prendere fulmini allora con lui adesso ci sfoghiamo per bene dove vai no 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 dove sta andando sì 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 ma ti devi sfogare con lui perfido dai il regalo perfido sì dai dobbiamo risultare mamma mia ha illuminato la casa aiuto quindi perfido spintona proprio non andiamo sul pesante no scusati proprio no lamentati dei problemi no malizia vediamo cos'è quella macchia però no no direi di andare urla parole proibite a Ugo sì sì andiamo proprio sul pesante respingi perfido disputare altre scelte sì ce l'abbiamo fatta usa parole proibite andiamo ancora sfogati e poi lo mandiamo via sì chiedi uh lotta aiuto no mi sa che ci ha sistemati bene e mo ti mando via stai fermo e chiedi di andare via grazie oh è passato il temporale grazie a dio vai via e e questi li mettiamo qua puoi dire che puoi andare a dormire visto che ti ha massacrata ma infatti perfetto allora direi che per oggi è tutto abbiamo visto una è l'onora abbastanza perfida ci è andata giù pesante con Ugo e così siamo andati avanti nell'aspirazione nel prossimo episodio andremo ancora avanti cercheremo di completare questo primo passo dell'aspirazione e dopodichè magari cercare di andare avanti con le generazioni e e vedere come si sviluppa questa questa generazione mente in più vorrei mandarle avanti la logica perché ce l'ha un po' bassa e e e e soprattutto la malizia visto che combacia con la nostra aspirazione direi che cade proprio a pennello quindi magari se c'è il prossimo festival di quella San Maishuno direi di andarci e sfogarci con la malizia quindi per oggi è tutto e se vi è piaciuto l'episodio lasciate un mi piace lasciate dei commenti e mi raccomando se avete dei suggerimenti lasciatemeli e iscrivetevi al canale e noi si ve va ci vediamo al prossimo episodio ciao